Usciamo, spero di poter usare questo termine, da una pandemia all'ospedale San Donato ed in particolar modo il suo reparto ha ripreso le sue attività, diciamo, normali pre-Covid? Sì, l'ospedale ormai da quest'estate ha ripreso le sue attività. Diciamo siamo tornati a uno standard quasi normale, ancora non proprio, che ci permette di ritornare a quelli che erano gli standard di prestazioni che erogavamo prima dell'epoca Covid. Questa opportunità ci permetterà di smaltire il lavoro ordinario. Purtroppo si è accumulato uno storico, si è accumulato delle liste di attesa nei due anni di pandemia e però anche su questo la direzione aziendale ha stipulato un accordo con il Centro Chirurgico Toscano per darci degli spazi che ci permetteranno di abbattere le liste d'attesa di quello che si è accumulato prima. Ci sono due strade, ci raccontava, che permetteranno nel futuro immediato ma anche un po' più in là di non fare dei viaggi, diciamo, della salute o della speranza, così come li vogliamo chiamare, agli aretini verso altre strutture, altre città. Quali sono? Sì, la ringrazio di questa domanda perché effettivamente non bisogna sempre guardare a rimediare il passato, il Covid, ma bisogna anche pensare un po', sognare e pensare in grande. Noi abbiamo messo in cantiere due progetti. Il primo progetto riguarda la cura delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, il Crohn e la colite ulcerosa che affliggono anche molti giovani, che per l'aspetto chirurgico sono spesso costretti ad andare ad operarsi verso altri centri, Pisa, Bologna, Milano e per questo motivo, in accordo con la gastroenterologia di Arezzo, abbiamo messo in piedi un gruppo di studio, un gruppo di lavoro multiprofessionale e un chirurgo fin da questo mese farà dei periodi presso l'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, dove c'è un centro chirurgico molto avanzato in queste cose per apprendere le tecniche e per poi portare questo know-how a Arezzo e poter intervenire sulle persone di Arezzo. Questo è il primo canale. L'altro canale, altrettanto interessante, riguarda i tumori dell'esofago e del pancreas, anche questi purtroppo con migrazioni verso altri centri toscani e anche extra regione, visto e considerato che nella nostra ASL sud-est il primario di Grosseto, il dottor Andrea Coratti, che ha lavorato per anni a Firenze e ora si è trasferito a Grosseto, è un esperto nazionale e anche internazionale di queste patologie, abbiamo messo in rete i nostri ospedali, quindi pazienti affetti da tumore dell'esofago, tumore del pancreas, potranno essere valutati online con l'equipe di Grosseto e qualora necessitino di interventi chirurgici, anche grazie al robot da Vinci che abbiamo sia noi che l'ospedale di Grosseto, essere operati anche qua grazie all'intervento del dottor Coratti che è disponibile a venire a collaborare con la nostra equipe di Arezzo. La robotica in chirurgia è qualcosa di assodato, ma quanto scorcia tra virgolette anche il decorso insomma poi di un paziente e la problematica successiva ad un intervento, quanto vi aiuta nel vostro lavoro? Il robot da Vinci aiuta il chirurgo e aiuta il paziente, aiuta il chirurgo perché noi lavoriamo meglio, con più precisione, con più accuratezza, millimetricamente riusciamo a fare cose che manualmente non si fanno bene e aiuta il paziente perché il suo dolore post-operatorio sarà minore, le sue perdite di sangue saranno minori, la sua ripresa lavorativa e anche di vita di relazione sarà più rapida, starà meno giorni in ospedale e potrà dedicarsi alle sue attività con tempi molto più corti. Dal suo osservatorio vedrà tanti casi di pazienti che, ahimè, insomma un po' per colpa anche della pandemia non si sono, tra virgolette, evoluti bene, no? Un po' anche con la prevenzione che è mancata tantissimo. Qual è l'appello che si sente di fare oggi? Purtroppo sì, tante persone non si sono rivolte all'ospedale e le dobbiamo trattare oggi con diagnosi tardive e purtroppo con delle prognosi che non sono quelle di due anni fa. Pertanto l'appello è quello di rivolgersi comunque alle strutture sanitarie perché le strutture sanitarie sono pulite, anche se il nostro è stato un ospedale Covid, ma anche nei momenti Covid ha avuto sempre due percorsi separati e quindi chi ha un problema non abbia la paura di rivolgersi all'ospedale o al proprio medico di famiglia o allo specialista per paura di contrarre il Covid. Queste sono storie non vere. Chi sta male deve comunque continuare la prevenzione e quando ci sono dei sintomi cercare di ascoltarli e non certo di nasconderli.